amici ma soprattutto nemici bianconieri buonasera buonasera o bubbo mi dice che è meglio ragazzo perdonatemi ma io quando faccio un video lungo lo faccio senza dolo senza dolo perché mi capita perché poi io nel mio score ho video di due minuti ho video di tre minuti ho video di quattro minuti ho video di dieci minuti mai mai fatto un video pensando alla durata per la monetizzazione la monetizzazione è quella che c'è c'è o di un minuto di due minuti non so non ho mai pensato una cosa di genere e invece invece anche là c'è l'inghippo invece anche là c'è il dolo anche là c'è il dolo quei youtuber che se ci fate caso 8 e 15 8 e 16 8 e 20 ma sotto 8 col cazzo col cazzo comunque chiudiamo questa parentesi diciamo chiamiamola time però fate bene i conti con chi avete che fare quindi sandro a roma non ci sarà quarto infortunio muscolare durante l'anno ai mannaggia d'allegri che gli ha rinnovato il contratto se uno pensa che questo di qua fra pochissimo sarà il giocatore straniero con più presenze mi si arricciano i peli del cazzo ancora di più è incredibile ragazzi negli ultimi 30 giorni un di due non ci sono parole non ci sono parole non ci sono parole o meglio le parole ci sono ma sono sarebbero sono parole sono parole di fuoco sono parole di fuoco nei confronti di chi ma secondo me questo alla percentuale ragazzi io a questo punto devo pensare che questo di qua c'è anche la percentuale sull'ingaggio sulle presenze perché non si spiega non si spiega a proposito a proposito ma è vero che i rugani lo hanno beccato con la col test se è vero a ruga a ruga anche qua anche in queste piccolezze io mi incazzo a ruga non lo so se è vero ma se è vero a ruga a ruga ma che cazzo stai a fa sembri a che poi ti mette a guidare tranne che ha superato di poco il conteggio non lo so comunque stupidaggio mi interessa un cazzo ragazzi io mi fermo qua ho fatto tre minuti di video semplicemente per fare un video non ci sono argomenti non ci sono ragazzi non mi metto a parlare del figlio che gioca al pallone non mi metto a parlare del capello che mi manca della chioma del tempo della barba che mi dico perché se io devo fare queste cose veramente mi vergognerei mi vergognerei mi vergognerei ammazzare il tempo per rinsimolare gli otto minuti ma perché non vi vergognate vergognate fate schifo ma se ci incazzate sempre fino alla fine allegria 8